amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino e con grande piacere che abbiamo oggi in nostra compagnia il difensore del circolo nautico posillipo antonio picca ciao antonio benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito buonasera andrea grazie a te saluto a tutti i telespettatori antonio iniziamo da quella che è stata la vostra ultima uscita nel turno infrasettimanale match giocato e perso alla zanelli contro il savona quali indicazioni avete ricevuto per il vostro percorso beh guarda andrea noi alla vigela partita sapevamo che affrontavamo una grande squadra che diciamo gioca insieme da anni e quest'anno sta dimostrando di potersela giocare con i top team in italia e anche in europa ha partecipato ai gironi di qualificazioni di champions e poi è uscita solamente in seguito a una lotteria di rigore infinita con il sabatella e quarti di finale di euro cup noi diciamo da questa partita sicuramente ci sono state delle cose che sono andate bene e altre dove sicuramente dobbiamo migliorare diciamo che l'aspetto sul quale dovremmo lavorare la difesa in inferiorità numerica e in attacco invece abbiamo ottenuto una percentuale molto bassa sull'uomo in più però comunque siamo contenti per aver mantenuto il ritmo non abbiamo preso controfugue contro appunto una squadra che fa della velocità e delle ripartenze un suo punto forte però ci sono state anche delle cose che sono andate bene rispetto alle nostre precedenti uscite di questo siamo contenti e io faccio un attimo un passo indietro quanto è stato importante invece sabato scorso vincere lo scontro diretto contro la poter polo milano metanopoli ma sicuramente questo campionato ci sta dicendo che tutte le partite sono aperte a qualsiasi risultato e per noi è stato fondamentale vincere in casa nostra contro una diretta concorrente per la salvezza siamo una squadra nuova giovane che sta lavorando insieme da due mesi quindi sicuramente il risultato raggiunto in casa contro contro la metanopoli ci ha dato fiducia e il percorso sappiamo che è lungo e difficile però i risultati contro le nostre dirette avversarie sono importanti sia da un punto di vista della classifica ma anche da un punto di vista del morale della squadra quindi è stato sicuramente fondamentale portare a casa quei tre punti. Questa è una squadra nuova è una squadra giovane l'età media è bassa quindi i margini di crescita sono sicuramente tanti se devi individuare però quelle due tre cose sulle quali basta poco per migliorare dove concentri la tua attenzione? Ma guarda io ti dirò sono molto fiducioso perché appunto secondo me abbiamo grandissimi margini di crescita vedendo il nostro percorso fino a qui forse più che del gioco ti parlerei di un aspetto mentale perché ci sono state due partite chiave purtroppo da noi una persa a Salerno e quell'altra pareggiata a Catania dove secondo me a livello di gioco abbiamo espresso davvero ottime cose da un punto di vista mentale nell'ultima frazione di gioco purtroppo siamo venuti meno e abbiamo perso dei punti importanti fondamentali che forse alla fine della 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 corsa potranno fare la differenza speriamo di no però probabilmente adesso se avessimo raggiunto un pareggio una vittoria a Salerno e una vittoria a Catania saremo parlando di una situazione di classifica diversa però questo è un aspetto che stiamo già lavorando e cercheremo assolutamente di migliorare nelle prossime uscite perché è troppo importante rimanere concentrati e determinati soprattutto nell'ultima frazione di gioco assolutamente anche perché è poi molto spesso il momento in cui nelle sfide punto a punto deve arrivare l'inevitabile verdetto sì esatto domani si torna in acqua a Santa Maria Capovedere c'è un test impegnativo contro la pallannodo Trieste formazione che sta veramente compiendo un percorso eccellente in questa prima parte di torneo che partita ci possiamo aspettare ma guarda dirò il nostro mantra quest'anno è davvero provare a giocare con tutte perché appunto fa parte di un processo di crescita importantissimo fondamentale per noi quindi anche domani vorremmo fare la nostra partita anche perché giochiamo in casa il Trieste già in questi anni ha dimostrato di essere un'ottima squadra ancora di più quest'anno hanno aggiunto al proprio roster delle individualità molto forti appunto hanno battuto i campioni d'Italia in carica del Brescia quindi secondo me quest'anno ancora di più hanno raggiunto una consapevolezza diversa rispetto alle passate stagioni oltre appunto a dei giocatori molto bravi sicuramente queste le ripartenze saranno fondamentali tutte queste queste squadre oltre vabbè il Brescia e il Recco fanno dell'intensità il loro punto forte e noi dobbiamo cercare di limitare proprio questo e di raggiungere pian piano partita dopo partita questa loro intensità Sfrutto la tua disponibilità per chiederti notizie su un massimo di Martire che nell'ultima partita è stato assente per infortunio quando lo rivedremo in acqua? Guarda non lo so non ti so dire spero al più presto perché Massimo è fondamentale al nostro gioco il nostro attaccante principale quindi speriamo di riaverlo al più presto con noi. Ok quali risposte chiedete al test contro Giuliani che cosa volete vedere in acqua a prescindere è ovvio che la speranza è sempre voglio portare a casa il risultato positivo se no non sarebbe sarebbe inutile scendere in acqua però a prescindere da quello che poi sarà il risultato quali sono le risposte dal punto di vista della prestazione che chiedete alla prossima sfida? Ma guarda sicuramente questo turno infrasettimanale da un lato ci ha aiutato perché vogliamo subito riscattare quello che non è andato nella partita di mercoledì quindi vogliamo sicuramente migliorare quello che non è andato a Savona e già l'abbiamo fatto ieri lo faremo sicuramente oggi in allenamento e speriamo di farlo ancora di più domani in partita quindi fondamentalmente vogliamo cercare di mantenere l'intensità che la Palanotto Trieste cercherà di imporre e migliorare quegli aspetti di cui ti parlavo all'inizio che purtroppo mercoledì non sono andati quindi diciamo questi test queste partite poi dopo ci aiuteranno anche negli scontri diretti che affronteremo nelle successive settimane. Certo anche perché misurarsi contro avversari superiori è uno stimolo sicuramente a crescere e a perfezionare i dettagli a guardare anche l'esempio di chi è arrivato più in alto partendo dal basso. Guarda sicuramente confrontarsi con giocatori più forti più esperti di noi per noi può essere sicuramente possiamo sicuramente prendere spunti importanti da queste partite per poi riproporlo in quelle sfide in quei match che dobbiamo assolutamente portare a casa per raggiungere il nostro obiettivo. Va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Antonio Picca per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Antonio, grazie. Grazie mille Andrea, buonasera da tutti.